E ora continuiamo con i candidati in corsa a Costa Volpino, ve li presento subito nell'ordine di sorteggio. Partiamo da Michele Lorandi di Vivi Costa Volpino, comandante di polizia locale a Lovere e 41enne. Buonasera. Buonasera a tutti. E continuiamo con Mauro Bonomelli di Costa Volpino Cambia, ingegneria civile 31enne. Buonasera. Buonasera. Questa tra l'altro è l'unica occasione di confronto tra i due candidati pubblica organizzata sino ad ora, poi vedremo se ci saranno anche altri momenti. Ma entriamo subito nel vivo e parliamo innanzitutto di scuole. A Costa Volpino sono state fatte delle scelte, ci sono stati degli accorpamenti e ci sono stati anche alcune perplessità. Partiamo da Lorandi, primo sorteggiato, poi continueremo con Bonomelli. Parliamo quindi di scuole. Un minuto e mezzo. Prego Lorandi. Sì, sulle scuole sono state fatte diverse scelte in passato dalle diverse amministrazioni che si sono succedute. Tutte le scelte sono state fatte dai sindaci, dalle amministrazioni che erano deputate a fare quelle scelte per via del mandato amministrativo. La scelta in particolare dell'amministrazione uscente è stata quella di costruire un plesso scolastico unico che ha portato, porterà alla chiusura della scuola della frazione di Volpino. Rispettiamo questa scelta, la rispettiamo come dicevo prima, ma non la condividiamo, nel senso che avremmo operato in un modo diverso. Io dico sempre che, e lo dico anche stasera, lo ripeto, che il nostro progetto amministrativo, il nostro gruppo, non è in continuità con nessuno delle compagini, delle amministrazioni precedenti, sia di centrodestra, sia civiche. L'amministrazione, infatti, di dieci anni fa già aveva ipotizzato, aveva iniziato la costruzione di un plesso scolastico unico. Noi invece siamo per far rimanere le scuole all'interno delle frazioni. Parliamo in particolar modo della scuola di Branico e della scuola di Piano, che comunque dovrebbe essere salvaguardata. Lo facciamo anche perché riteniamo che la presenza delle scuole nelle frazioni sia importante per il tessuto sociale, per proprio la vita delle frazioni stesse. Ok, benissimo. Continuiamo con il collega Bonomelli. Sì, sul tema delle scuole è stata fatta una scelta dalla mia amministrazione su un tema dibattuto da 20 anni, che è quello delle scuole elementari a Costa Colpino. È stata fatta una scelta ed è stata attuata una scelta. Quindi è stata data una risposta che può essere più o meno condivisibile ed è stata una risposta in linea con quello che quando ci siamo candidati cinque anni fa avevamo sostenuto. Quindi la riqualificazione e valorizzazione di due strutture. Una nel centro del paese, appunto nella frazione dei corti e una nella frazione di piano, che è quella su cui continuiamo il nostro percorso di riorganizzazione scolastica e su quale riteniamo che per un comune come Costa Colpino, che ha un orizzonte di abitanti che possa arrivare a un massimo di 12.000, sia la risposta più adeguata a quelle che sono appunto le esigenze scolastiche di Costa Colpino. Devo dire una cosa però. Quando siamo arrivati cinque anni fa, l'amministrazione precedente aveva sostenuto un progetto di plesso unico scolastico, portato avanti da dieci anni, mai attuato per quanto riguarda le scuole elementari e prevedeva l'alienazione di due plessi. E noi questi plessi non li venderemo, ma li riqualificheremo per funzioni pubbliche. Ok, bene. Continuiamo con la successiva domanda. Se non ci sono richieste di eventuali repliche da parte dei nostri candidati e ci occupiamo di viabilità. Anche qui abbiamo visto a Costa Colpino negli ultimi anni muoversi alcune cose, ma la viabilità è sempre stata una tematica molto importante per questo paese. Ci sono delle situazioni, delle cose che forse andrebbero ancora sistemate. Ripartiamo da Bonomelli. Costa Colpino paga inevitabilmente uno sviluppo che ha avuto negli anni 70 e che si trascina determinate criticità di questo sviluppo anche sulla viabilità. In particolar modo quando è stata realizzata l'attuale superstrada sono mancati dei tasselli nella gestione di svincoli di ingresso ed uscita e quindi Costa Colpino paga un flusso di traffico che nelle ore di punta raggiunge importante densità. Per quanto ci riguarda, dal punto di vista urbanistico, nel piano di governo del territorio che è stato giusto oggi la comunicazione di Regione Lombardia approvato e dato l'ok, sono previste delle soluzioni di arterie alternative che possono consentire lo sfogo e lo scarico delle due principali arterie caricate che sono via Cesare Battisti e via Nazionale. Abbiamo dato una risposta, sono risposte che dal punto di vista urbanistico realizzare e dal punto di vista dei lavori pubblici realizzare strade non si può fare in pochi anni ma sono interventi che vanno su mandati importanti però sono state date delle risposte e su queste risposte partiamo per dare appunto soluzioni al problema della viabilità. Ok, continuiamo con Lorandi, prego. Sì, la viabilità mi vede particolarmente partecipe, un po' per via, anzi soprattutto per via del mio ruolo professionale come comandante di polizia locale. Giustamente come è stato detto, Costa Volpino ha una viabilità deficitaria per via soprattutto dello svincolo della superstrada. ci sono molti problemi che ancora vanno affrontati e che secondo me andavano affrontati per tempo e che ancora oggi attualmente possono, potrebbero essere affrontati, devono essere affrontati come ad esempio sia sicuramente sgravare il traffico da via Cesare Battisti e via Nazionale cosa che sarebbe possibile, però è un sogno o comunque una cosa non spendibile anche finanziariamente in questo momento con un secondo ponte o comunque con un qualcosa che bypassi il centro di Costa Volpino, ma poi va soprattutto anche posta attenzione ai diversi svincoli che ci sono, che invece sono stati lasciati un po' a se stessi e mi riferisco in particolar modo all'intersezione di via Marco Polo e mi riferisco anche alla problematica che ci sarà con la scuola scuola che porterà un centinaio di studenti, per l'amor del cielo, in più nel plesso scolastico nuovo di via Aldomoro che già era operato di traffico, già aveva dei problemi e quindi uno dei primi problemi che ci dovremo ad affrontare è proprio studiare una viabilità alternativa per via Aldomoro in modo che questo traffico venga sgravato Ok, andiamo avanti quindi se non ci sono altre repliche con la domanda successiva Nei programmi dei due candidati emergono differenze soprattutto anche per quanto riguarda il tema della sicurezza, ci sono delle vedute che fanno emergere appunto delle differenze Ripartiamo da Lorandi, cosa avete in mente per questo tema? Tutto il nostro programma si basa, abbiamo fatto una scelta prima di inserire le cose nel programma che è stata quella di prevedere solo cose fattibili, concrete e immediatamente spendibili Il primo problema che abbiamo affrontato partendo da questo presupposto è stato proprio quello della sicurezza La sicurezza è improrogabile, ha bisogno di risposte concrete e immediate quindi attuabili non fra un anno, due anni o tre anni ma subito, domani, dopo domani Quindi va bene l'ipotesi di un consorzio di polizia locale dell'Alto Sebino va bene avere la caserma della Guardia di Finanza a Costa Volpino che potenzi il presidio delle forze dell'ordine sul territorio però entrambe queste cose non sono spendibili né domani né dopo domani nel senso che sono una previsione a breve, medio termine quindi ne potremmo parlare fra un anno sia per la caserma della finanza che comunque va ristrutturato l'immobile in questione sia per il consorzio dato atto che comunque prima tutti i comuni devono essere concordi nel realizzare questo consorzio quindi i nostri interventi sono sia la previsione di un intervento da parte di istituti di vigilanza privata che subito però, quindi nel brevissimo termine, affianchino e potenzino il servizio di pattugliamento da parte della polizia locale sia l'estensione della videosorveglianza e sia i bandi di contributo, quindi un contributo economico concreto ai cittadini che installino sistemi di videosorveglianza io ritengo che il tema della sicurezza sia un tema che non può essere affrontato con interventi spot ma deve essere monitorato e valutato e su cui bisogna lavorare nel corso degli anni io sono arrivato 5 anni fa ad amministrare questo comune il reato più significativo era furti in abitazione come è adesso e si è passati in 5 anni da 47 furti in abitazione nel 2010 a 21 furti in abitazione anno nel 2015 non è merito dell'amministrazione, non voglio prendermi questo merito ma penso che degli interventi portati avanti su 5 anni siano degli interventi che sono andati nella direzione di prevenire questo c'è con la nuova caserma dei carabinieri che abbiamo realizzato e che abbiamo portato i militari da 6 a 10 grazie a questa nuova struttura sono convinto che l'ampliamento della videosorveglianza sia un tema che deve essere affrontato e che deve essere continuativo insieme alla riqualificazione dell'illuminazione pubblica su tutto il comune da qui le differenze sono sul Consorzio di Polizia Locale e sulla Guardia di Finanza io ritengo che la Guardia di Finanza arrivare ad avere una compagnia quindi un servizio H24 sia sicurezza e sul Consorzio di Polizia Locale è un progetto da attuare non sono d'accordo tutti i comuni bene lo faremo con chi sono d'accordo però ritengo che questo tema deve essere seguito per ampliare il servizio e l'offerta del servizio di Polizia Locale che c'è su tutto il territorio ok allora andiamo avanti se non ci sono precisazioni e invece continuiamo con Bonomelli al quale chiedo poi dopo ovviamente la domanda è la stessa anche per Lorandi se a Costa Dolpino si sente la necessità di realizzare nuovi centri ricreativi prego il tema del centro aggregativo è un tema che viaggia ormai da vent'anni su tutti i programmi elettorali il mio gruppo e il movimento Costa Dolpino Cambia ritiene che l'aggregazione a Costa Dolpino deve essere fatta intorno allo sport abbiamo previsto un punto specifico nel nostro programma che è un centro sportivo che potenzierà l'attuale palazzetto dello sport con la realizzazione di un campo sportivo 11 collegamento con il parco dell'olio e piste ciclopedonali che stanno sul fiume Olio per aggregare intorno a questa struttura giovani e meno giovani ritengo che sia l'unico punto spendibile per creare un servizio di questo tipo non soltanto per l'offerta che può essere data ma anche per la sostenibilità del servizio che in quella zona con una ristorazione ampliata e con degli spazi ampliati da dedicare all'attività sportiva può essere sostenibile e può dare una risposta che in altri comuni c'è già e che a Costa Dolpino è mancata su questo tema Ok, continuiamo con Lorandi, prego Sicuramente i centri di aggregazione vanno tutelati qualcosa a Costa Volpino c'è ci sono delle ottime realtà a partire dagli oratori dagli campi anche di calcio che ci sono presso i diversi oratori non sono campi a 11 sono campi a 7 noi riteniamo però che prima di investire poi parliamo di finanziamenti privati parliamo di meccanismi che coinvolgono comunque i privati e quindi con tutto ciò che ne consegue noi pensiamo che prima di intervenire o di spendersi in un intervento così grande bisogna tornare un pochettino invece alle cose piccole che oggi servono più a Costa Volpino perché Costa Volpino ha delle zone centrali che di fatto sono degradate parliamo della zona portici e non è un mistero e non è una novità per chi mi ascolta quindi intervenire su quelle riqualificare quelle sono d'accordo pienamente col discorso piste ciclabili dove concentrerei di più invece la mia attenzione e sul turismo e quindi sull'aggregazione sulla sinergia fra sport, ambiente e turismo fatto attraverso la riqualificazione la creazione di collegamenti delle piste ciclabili che oggi mancano totalmente e sto parlando del collegamento verso Rogno e anche del collegamento verso Pisogne e quindi l'interazione tra tutte queste cose senza dimenticare anche il turismo agricolo e montano nel senso con l'incentivazione di tutte le strutture alberghiere ricettive non alberghiere e quant'altro Ok, allora ci fermiamo per una breve interruzione restate con noi a tra poco Riprendiamo con questo confronto tra i candidati in corsa a Costa Volpino facciamo anche un passo indietro e recuperiamo una piccola polemica che c'è stata nel paese riguardante la Bossico Ceratello la strada è stata aperta e poi continuiamo con Lorandi un minuto qua per rispondere Allora, premetto che il mio ruolo in tutta questa vicenda non è mai stato polemico e non ho mai fatto come candidato sindaco dichiarazioni o sono intervenuto nel dibattito sulla Bossico Ceratello rispondo però volentieri alla domanda con un paio di osservazioni la prima osservazione è Benvenga la Bossico Ceratello quella strada era un progetto vecchio di molti molti anni è stato fatto il quinto lotto è stata aperta la strada quindi siamo tutti contenti certo la precedente giunta cioè la giunta uscente si è trovata al momento giusto per tagliare il nastro pur avendo contribuito al quinto lotto la seconda poi chiudo osservazione riguarda il fatto che comunque qui intervengo invece questa volta e sposo un attimino non dico le polemiche ma mi riallaccio a cose che sono state dette non si tratta della Bossico Ceratello il progetto iniziale parlava di congiungere i due centri abitati in realtà effettivamente c'è ancora un tratto che è l'ultimo che è non in sicurezza Bonovelli l'ultimo tratto che non è in sicurezza era noto a tutti in quanto la posa della prima pietra era stata fatta dai tre sindaci di Lovere, Costa Volpino e Bossico dal punto in cui è partita la Bossico Ceratello e nella relazione presente all'interno dei progetti sta proprio scritto che il primo lotto veniva mantenuto così con una legge della sistemazione del fondo stradale il quinto lotto che appunto è stato menzionato prima comprende Cuba la metà dell'intera strada quindi è un investimento assolutamente importante in cinque anni noi abbiamo fatto metà strada nei primi dieci è stata fatta l'altra metà quindi penso che il merito ce lo prendiamo ce lo prendiamo quanto meno per il 50% della strada anche perché siamo riusciti a recuperare un contributo da 620 mila euro che prima nessuno aveva mai recuperato dalla comunità montagna e laghi bergamaschi Ok, se non ci sono altre precisazioni andiamo avanti Costa Volpino sta riscoprendo anche la sua vocazione turistica e si sta riscoprendo anche come paese di lago anche attraverso gli ultimi interventi che sono stati eseguiti quindi parliamo di turismo cosa avete in mente di fare? Polomelli Costa Volpino si scopre oggi con una minima ad oggi attrattività e recettività dal punto di vista turistico si scopre oggi e grazie alla sponda nord del lago riqualificata in questi anni e agli investimenti fatti in montagna fatti in questi anni e conclusi in questi anni per quanto ci riguarda l'intervento che vorremmo fare da questo punto di vista sarebbe creare una rete creare la possibilità di mettere a disposizione stabili alloggi per creare un progetto di recettività leggera che sia un bed and breakfast, alberghi diffusi piuttosto che affitto a camere questo è da costruire, da studiare ma questo è quello che ci poniamo oggi e possiamo porcelo oggi perché in questi cinque anni sono stati fatti investimenti che hanno valorizzato le risorse di lago e montagna ok, Lorandi prego allora c'è in termini di turismo ancora molto da fare c'è da fare riscoprendo le potenzialità del comune di Costa Volpino che sono la sponda nord del lago ma sicuramente anche la montagna quindi noi proponiamo l'allargamento la continuazione dell'allargamento della strada della costa che di fatto da cinque anni è rimasto fermo proponiamo anche noi ma con forza il discorso di lo dicevo anche prima incentivare le strutture ricettive non alberghiere in modo che possano anche essere rivalutati i centri storici delle nostre frazioni riguardo alla sponda nord del lago va bene purché ci sia e noi questo lo proponiamo anche con forza un collegamento tra quello che è il centro del paese il residence bersaglio e la sponda nord del lago perché attualmente questo collegamento non c'è c'è questo scollegamento che fa sì che queste opere pur belle pur apprezzabili siano di fatto a servizio se vogliamo del centro storico del centro di Lovere per cui sulle stesse brochure sulle stesse informazioni dell'area camper si dice a breve distanza dal comune di Lovere non dal comune di Costa Volpino ok ora tentiamo di capire ah prego prego andiamo via un giro di replica sono d'accordo su questo che deve essere fatto ancora molto e che devono essere fatti ancora molti collegamenti però si deve dare atto che fino a cinque anni fa non c'era una sponda nord del lago e non c'era neanche un collegamento con Lovere se oggi la priorità è collegare con il centro del paese è vero ma oggi è una priorità perché quello che ho detto prima è stato fatto in questi cinque anni ok prego sì diciamo anche qui il turismo come dicevo prima va sicuramente incentivato però prima di realizzare quell'intervento sarei andato a recuperare una cosa che noi intendiamo fare le zone centrali degradate del paese per poi estendere il paese fino a quel punto manca ancora oggi e questo poteva essere fatto un pontile un attracco del battello sul lago e questa è una mancanza grave che sono convinto cercheremo di risolvere ok ora tentiamo di capire un po' quale può essere l'agenda del futuro primo cittadino di Costa Volpino riprendiamo da Lorandi poi sentiamo Bonomelli qual è la prima cosa che vorrebbe fare da primo cittadino allora da sindaco sicuramente la sicurezza è la nostra priorità è il primo dei tre punti che ci siamo dati nel programma un programma semplice quindi solo tre focus essenziali e in termini di sicurezza subito il bando per il convenzionamento con istituti di vigilanza privati per dare subito un segnale ed arginare furti e quant'altro quindi intervenire in sicurezza Bonomelli continuare con la stessa voglia di fare con lo stesso entusiasmo che ci ha caratterizzato in questi cinque anni in cui dal punto di vista degli investimenti su Costa Volpino si è cambiato passo mettendo sul piatto qualcosa come 12 milioni di euro di investimenti sono tre e sono la conclusione della scuola elementare nuova con l'auditorio mannesso la realizzazione dello svincolo su via Marco Polo del collegamento ciclopedonale più esteso rispetto a quello attuale con il Lungolago Nuovo e infine andare decisi sulla realizzazione di un campo sportivo 11 perché per oggi per i nostri ragazzi è la priorità ok continuiamo il sociale anche a Costa Volpino è un tema molto importante e assorbe molte energie economiche probabilmente anche qui è la voce più alta nel bilancio del comune correggetemi se sbaglio ma è così quindi cosa volete fare per questo settore ripartiamo con Bonomelli prego io penso che l'assessorato alle politiche sociali in questi cinque anni abbia fatto molto e la cosa fondamentale su questo tema oltre a mettere a disposizione i quattrini è quella di mettere in rete e far collaborare fra di loro le realtà associative presenti all'interno del territorio fra l'altro sono state anche messe in relazione e create associazioni che affrontano le problematiche sociali sotto aspetti diversi noi vogliamo realizzare nella scuola ex attuale scuola di Volpino la casa delle associazioni vogliamo costituire una consulta delle associazioni affinché tutto il volontariato e tutte le persone che decidono di mettere in campo il proprio tempo per il comune di Costa Volpino possano coordinarsi collaborare e darsi delle priorità insieme affinché il lavoro venga ottimizzato al 100% si investe molto si può investire ancora di più sicuramente il volontariato è una risorsa che verrà valorizzata tutelata tutto quello che c'è va potenziato perché è una risorsa indispensabile noi abbiamo studiato ed è una parte corposa del nostro programma tutta una serie di servizi aggiuntivi che si affiancano a quelli esistenti e che soprattutto sono in relazione in sinergia con i servizi d'ambito e quindi con tutto quello che già c'è sul territorio quindi un primo sportello per le mamme in gravidanza piuttosto che per i bambini le famiglie con bambini disabili quindi potenziare ancora di più sia investendo di più sia ricorrendo alla risorsa indispensabile del volontariato ok continuiamo in località Bersaglio c'è un sito storico che potrebbe essere oggetto di un intervento di valorizzazione avete in mente qualcosa di particolare prego su quel sito parliamo del vecchio Bersaglio e ancora dei Bersagli che sono presenti si può fare molto c'è già un progetto era un progetto della vecchia amministrazione non di quella uscente di quella prima è un sito tra l'altro lì siamo vicini ad un'area che è poi l'area più vicina al fiume che è anche una particolare rilevanza da un punto di vista ambientale e si pensava ad un recupero proprio da un punto di vista storico addirittura con delle passerelle che andavano da un bersaglio all'altro in modo che si vedesse il lago c'è un progetto molto bello che non abbiamo dimenticato ce l'abbiamo ben presente ed è una delle cose che ci piacerebbe fare Bonovelli questa domanda mi piace molto perché su quell'area abbiamo investito molti sforzi in questi 5 anni quell'area 5 anni fa era De Magnale oggi quell'area è comunale e è in corso la procedura di acquisizione anche dello stabile bersaglio noi oltre a ristrutturare e riqualificare questi bersagli vorremmo realizzare recuperare questo stabile e darlo a funzioni pubbliche per le associazioni per chi potrebbe gestire quel complesso creando degli spazi appunto fruibili per la sponda nord del lago è vicino alla navigazione del lago di Seo e quindi io penso che questa sia la cosa più bella e più importante che si possa fare su quell'area oggi ma tentiamo anche di capire come potrebbe cambiare il consiglio comunale a Costa Volpino siete in grado di fornirci qualche indicazione che ne so la composizione della giunta qualche delega particolare Bonomelli eh no chiedo scusa non vorrei sbagliare sì Bonomelli abbiamo un vincolo un vincolo di quota rosa che eh non è affatto un problema e quindi eh noi oggi abbiamo una giunta eh composta da una donna e tre uomini dovremo avere una giunta composta da due uomini e due donne io eh ho apprezzato molto il lavoro fatto da tutti i miei consiglieri assessori compresi quindi eh sono certo che il lavoro fatto in questi cinque anni verrà tenuto in considerazione ci saranno delle sorprese importanti perché ci sono all'interno della lista persone con grande determinazione grande voglia di fare anche per quanto riguarda le deleghe Orandi allora io ho creduto fin dall'inizio eh nella squadra e poi nel progetto eh politico ma più che politico amministrativo che eh che abbiamo creato che stiamo proponendo ai cittadini dico questo perché la squadra è eh veramente valida io ci ho creduto dall'inizio ma ci sto credendo ogni giorno di più all'interno della squadra ci sono delle professionalità delle competenze veramente eh notevoli e quindi non ci saranno eh problemi a trovare eh i singoli eh soggetti che ricoprano in maniera eh competente tutti i ruoli al momento eh non c'è un'idea eh nel senso ripeto abbiamo tutte le competenze necessarie vedremo poi strada facendo tutti sono allo stesso livello in questo momento e anche questa è una cosa secondo me positiva ok stiamo per arrivare alla conclusione di questo appuntamento diamo proprio due minuti a testa per l'ultimo appello al voto l'ordine Lorandi Bonomelli prego siamo una squadra equilibrata con degli elementi giovani eh entusiasti e non è neanche una cosa così eh purtroppo così solita eh per la gente giovane oggi cioè mostrare la faccia impegnarsi in politica abbiamo anche elementi invece con più esperienza siamo una compagine nuova con un progetto amministrativo nuovo che non è in continuità con nessun'altra eh compagine politica del passato e presentiamo un programma che si basa soprattutto sulla concretezza sulla spendibilità e sulla eh finanziabilità degli interventi quindi un programma semplice che affronta il problema della sicurezza della vivibilità del territorio e della partecipazione intesa sia come partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione anche dopo la campagna elettorale e intesa anche come comune che si adatta alle esigenze del cittadino quindi un comune aperto che si porta anche eh nelle frazioni perché c'è anche un'attenzione particolare verso le frazioni verso il comune di Costa Volpino nel suo nel suo insieme perché Costa Volpino è le sue frazioni che secondo noi in questi cinque anni sono state un po' dimenticate come anche il centro tante cose belle ma occorre ripartire dalle cose piccole dalla manutenzione dalla sicurezza e dalla vivibilità noi ci siamo siamo concreti siamo convinti sceglieteci se anche voi pensate che queste siano le priorità le cose che servono oggi a Costa Volpino sicurezza vivibilità scegliete la lista numero uno e votate la lista Vivi Costa Volpino Lorandi Sindaco Bonomelli prego cinque anni fa Costa Volpino era il comune delle occasioni mancate troppo spesso ho sentito parlare del mio comune come il comune che aveva perso le occasioni di sviluppo del proprio territorio parlo della sponda nord del lago parlo della montagna parlo dei palazzetti dello sport parlo delle scuole in questi cinque anni siamo tornati a un livello che è quello che Costa Volpino merita cioè un livello di rispetto come comune più popoloso dell'intero Alto Sebino per tutto il territorio sovracomunale che è la sponda nord del lago di Sio e questo è stato merito di Costa Volpino Cambia Costa Volpino Cambia in cinque anni ha cambiato passo su tanti aspetti sono il primo a sostenere che ci sia ancora tantissimo da fare ma bisogna prendere atto e dare atto a questa amministrazione che in cinque anni è stato fatto molto che cosa dico oggi il nostro programma è un programma ambizioso lo dico con grande orgoglio perché credo che Costa Volpino come comune più popoloso come comune con grandi risorse deve avere dei sogni dei sogni da mettersi bene in testa e dei sogni da raggiungere sono certo che con il gruppo Costa Volpino Cambia questi sogni potranno essere raggiunti la squadra è per grande parte confermata ma per cinque unità nuove giovani con voglia di fare con grandi competenze che prima ci mancavano questo chiedo chiedo la fiducia per continuare il lavoro fatto in questi cinque anni e sono certo che i cittadini di Costa Volpino apprezzeranno il nostro gruppo per il lavoro fatto in questi cinque anni perché è stato un lavoro enorme che ha cambiato Costa Volpino in meglio ok siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione io ringrazio i nostri ospiti ma soprattutto tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa grazie e buon proseguimento di serata a tutti